Ciao! Allora, sono appena di ritorno dalla Thailandia, dalle poste, perché mi è arrivato un pacco dalla Thailandia! No, lo dico con gioia, ma non sono tanto felice, cioè non che non sono felice, sono un po' spaventata, perché dovrebbero essere insetti. Sì, perché in realtà avevo cliccato, in pratica avevo taggato sulla fotografia su Instagram degli insetti, l'azienda. L'azienda evidentemente è andata a vedere il video, perché comunque ci riuscivi ad arrivare, insomma c'erano i vari link, e mi ha detto, guarda, mi ha scritto un'email, se ti interessa, no se ti interessa, ti ringraziamo, appena ci saranno delle novità te le inviamo. E in pratica adesso facciamo questo unboxing insieme e vedrete le prossime cose che mangerò, sono terrorizzata. Allora, non ho aperto bene la scatola, come immaginavo. Questo video è lunghissimo. Oh no! Le scatolette mi ha inviato, no! Dio, che schifo! Non mi chiedo di stancherà tarantola, no, che c'è la racclofobia! Dio, che schifo ragazzi, ma fa... Non mi chiedo di spettare, ma madonnina! Ma questi sono matti, ma che è tutta sta roba? Oh Cristo santo! Ma però se li mangia le formiche! Ma... Cioè, eppure faccio video anche di altre cose! Allora, vediamo insieme che schifezze mi hanno inviato. Allora, questi che cosa sono? Mixed Bugs. Oddio, madonna, ma due pacchi no! No, due pacchi ragazzi! Ah, la pasta! Meno male! Allora, due pacchi, che ci faccio con due pacchi? In questo ci stanno il mix di... Ah, boh, le cavallette ormai sono collaudate. Questi qui le volevo provare, che sono i bacchi da seta. Sicuro che non c'è il ragno? Ok, il ragno non c'è. Ci stanno le... Ah, Black Hands. Questa è la mia amica Ciesi, metto che erano buone. E la pasta... Cioè, mio marito mi uccide se vi propongo la pasta fatta con la polvere d'insetto. Eh, vabbè. A presto. Saranno le prossime recensioni. Grazie, Thailand Unique!